Amo il dolce, ma è meglio il salato. Marco e Luigi vanno alla riunione. Non mi piace il pesce, ma amo la carne. Ho voglia di uscire. Ma ho molto da fare. Dopo cena leggo libri o guardo film. Prendo il treno o l'autobus per Pisa. Non ho studiato, ma passerò l'esame. Bevo il caffè, ma preferisco il tè. Non mangio carne né pesce. Vado al mare o in montagna in vacanza. Vuoi la pizza o la pasta per cena? Ho fame, ma non ho tempo di cucinare. Ho visto il film, ma non mi è piaciuto. Luca è stanco, ma oggi si allena. Usciamo da qui fra dieci minuti. Al mattino mi alzo con la sveglia. La mia moto è dal meccanico. L'autobus si ferma in stazione. Sabato passo per la tua città. Devo dirti di non usare l'auto. A casa ho una pianta di limoni. Vivo qui da cinque anni. C'è un gatto su un albero. Tra dieci minuti vado in pausa. Vado a nuotare di pomeriggio. A casa mia ho molte piante. Luigi lavora in un'azienda. Anna abita in un condominio. Chiedo a un amico di uscire. Chiedo a un amico di uscire. Il lavoro finisce alle cinque. Esco a cena con la famiglia. Lavoro da casa molto spesso. La conosco da tanti anni. Vi ho invitati alla festa. È da un'ora che ti cerco. I libri nuovi li ho letti tutti. La pasta la cucino a cena. La spesa la faccio più tardi. Di pizze ne voglio cinque. La frutta non la mangio mai. Mi puoi aiutare per favore? Li conosco tutti i tuoi amici. Di caffè ne bevo solo uno. Mi hanno telefonato spesso. Tua figlia mi sta cercando. Mi sono dimenticato le chiavi. Ieri vi ho chiamati due volte. Sono stanco di aspettarti. Noi ci incontriamo alle tre. Mio padre si alza presto. Non vi vedevo da due anni. Quella donna la conosco. Gli alberi li vedo dal balcone. Sono le tre e venti. Sono le nove e trentacinque. Sono le undici meno dieci. Sono le dieci e quattordici. Sono le sei e dodici. Sono le sei e quarantadue. Sono le due e cinque. E' mezzogiorno e ventotto. Sono le otto e diciotto. Sono le nove e ventinove. Sono le undici e mezza. E' mezzanotte e trentotto. Sono le tre e meno venti. Sono le otto e venticinque. Sono le quattro e dieci. Sono le nove e quattro 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 e qu Sono le 11 e 32. Sono le 7 e 12. Sono le 8 e 31. Sono le 10 e mezza. Sono le 11 e 22. Esprimere. Espresso. Erigere. Eretto. Fondere. Fuso. Friggere. 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 Giungere. Giunto. Imprimere. Impresso. Includere. Incluso. Intendere. Intendere. Inteso. Inteso. Invadere. Invaso. Leggere. Letto. Mettere. whereas a nascondere nascosto andare io andavo io sono andato ascoltare io ascoltavo io ho ascoltato chiedere io chiedevo io ho chiesto capire io capivo io ho capito bere io bevevo io ho bevuto finire io finivo io ho finito dovere io dovevo io ho dovuto comprare io compravo io ho comprato conoscere io conoscevo io ho conosciuto iniziare io iniziavo io ho iniziato leggere io leggevo io ho letto nascere io nascevo io sono nato sapere io sapevo io ho saputo io ho saputo pagare pagare pagavo io ho pagato pensare io pensavo io ho pensato potere io potevo io ho potuto dare io davo io ho dato vivere io vivevo io ho vissuto parlare io parlavo io ho parlato vedere io vedevo io ho visto tornare io tornavo io sono tornato invitare invitare io invitavo io ho invitato credere io credevo io ho creduto partire io partivo io sono partito leggere leggevo io ho letto studiare io studiavo io ho studiato venire io venivo io sono venuto entrare io entravo io sono entrato io incontrerò tu incontrerai lui lei incontrerà noi incontreremo voi incontrerete loro incontreranno io metterò io metterò tu metterai lui lei metterà noi metteremo voi metterete loro metteranno io sentirò tu sentirai tu sentirai lui lei sentirà noi sentiremo voi sentirete loro sentiranno io cercherò tu cercherai lui lei cercherà noi cercheremo voi cercherete loro cercheranno io pagherò io pagherò tu pagherai lui lei pagherà noi pagheremo voi pagherete loro pagheranno io comincerò io comincerò tu comincerai lui lei comincerà noi cominceremo voi comincerete loro cominceranno io mangerò tu mangerai lui lei mangerà noi mangeremo voi mangerete loro mangeranno in Italia ci sono molte culture diverse l'anno scorso sono andato a Parigi noi andiamo in vacanza in Spagna la città di Pechino si trova in Cina il concerto è stato fatto a Napoli sto uscendo sto andando in ufficio Claudia non abita più in questa via abito a Roma ma ora sto a Pisa Bologna si trova in Emilia Romagna stasera vado a mangiare fuori di solito compro in quel negozio devo dare a Claudia il suo regalo in Francia si mangia molto bene torno a casa per le vacanze vado a fare un po' di ginnastica domani sono a pranzo dal mio amico voglio andare in vacanza in Asia sono stato in ufficio a lavorare la macchina è rotta andiamo a piedi il treno è arrivato in stazione finalmente posso andare a nuotare mi piacerebbe andare in montagna sono stato in spiaggia a Genova ho aperto un conto in banca sto imparando molte cose in italiano in Europa ci sono molte montagne abbiamo messo molto cibo a tavola in Sardegna il mare è limpido non ho studiato perché stavo male non è solo bella è anche ricca la stanza è piccola ma almeno è pulita sta per piovere infatti è nuvoloso tra l'altro non sono neppure stato avvertito questo film è così noioso parla chiaro così che lui capisca non è divertente però è necessario prendo una bibita invece del caffè sono invitati tutti tranne Claudia non posso venire prima di domani sera a quei tempi andavamo in giro insieme ho visto quel film solamente una volta ci siamo visti in piazza qualche mese fa e allora che cosa facciamo? è davvero tardi adesso me ne vado mentre lei dormiva ho cucinato la cena a questo punto non so più cosa fare alla fine non abbiamo mangiato nulla prima studiamo e poi usciamo sono arrivato giovedì cioè ieri alla scuola di lingua ci sono molti studenti purtroppo non c'è il caffè per colazione c'è molta gente al mercato di sabato a Firenze ci sono sempre molti turisti in questa stanza c'è un telefono nella torta ci sono i frutti di bosco ci sono molte cose da fare entro domani devo andare c'è qualcuno al telefono a Napoli c'è sempre molto traffico ci sono tante persone alla festa in questa stanza c'è un divano alla radio c'è una bella canzone ci sono dei lavori in corso qui vicino nello stadio ci sono molti uomini sulla spiaggia c'è una bandiera verde a Venezia ci sono i canali c'è un incidente sull'autostrada per fortuna c'è tanto gelato nel frigo in classe ci sono 22 studenti in questa strada ci sono molti negozi in piazza c'è una grande statua a Venezia ci sono i canali